Bentornati a detto fatto io sono Valentina e lui è l'altro mio figlio che si chiama Fabrizio allora Fabri oggi che facciamo vogliamo fare un bel portafoto e mettiamo una foto al centro di questo cartoncino lo facciamo con le cannucce cominciamo si cominciamo prima di ogni cosa abbiamo bisogno di un pezzo di cartoncino doppio come questo incolliamo al centro del nostro cartoncino la foto con la colla a caldo prossimo passaggio dobbiamo interamente coprire il cartoncino con lo scotch biadesivo per poi applicare le nostre cannucce applicato lo scotch biadesivo su tutto il cartoncino adesso dobbiamo mettere le nostre cannucce adesso dobbiamo ritagliare le cannucce da mettere ai lati la foto con la colla a caldo prossimo passaggio questo è il nostro portafoto finito con le cannucce di plastica provateci anche voi vi aspettiamo alla prossima puntata di detto fatto ciao ciao saluta ciao